Grazie al progetto Easy Go, le persone anziane e disabili che risiedono nei comuni dell'ATSBR4, in particolare nel territorio di Erchie, Latiano e Torre Santa Susanna, ma su richiesta anche nei restanti sei centri urbani che afferiscono al consorzio, possono contare sulla disponibilità di un mezzo di trasporto da utilizzare per raggiungere servizi, ambulatori, negozi e luoghi di socialità e svago. All'iniziativa di consegna del veicolo, nell'auditorium del Castello Comunale di Mesagni, e hanno partecipato i rappresentanti istituzionali del consorzio BR4 e Antonio Eppolito, amministratore unico di Social Travel Service, la realtà che gestirà le attività a Erchie, mentre sarà il SER cittadino a occuparsi della custodia del veicolo nel comune di Torre Santa Susanna. Durante l'incontro pubblico sono state anche illustrate le modalità di organizzazione e il funzionamento degli interventi. Il progetto è in linea con le politiche istituzionali promosse dall'ATS per la realizzazione del sistema integrato di Welfare, ha spiegato il presidente del consorzio Antonio Calabrese, avendo come obiettivo quello di favorire l'autonomia delle persone a rischio di emarginazione sociale, supportandole nello svolgimento di attività che da sole o con l'aiuto di familiari e amici non sempre potrebbero svolgerle. Tutte le informazioni potranno essere reperite anche tramite app.